Le caratteristiche che devono avere sicuramente il talento, la voglia di sacrificarsi, di fare sacrifici, la voglia di metterci in begno e tanta tanta passione. Non perseguitare il successo e i soldi ma concentrarsi sul talento, sulla preparazione, sugli obiettivi e poi le cose verranno da solo. Progetti futuri? Progetti futuri? Ho appena finito di scrivere un cortometraggio che la prossima settimana gireremo e alcuni ragazzi del campus verranno inseriti anche come ruoli importanti. Si chiama Il ritratto di un adolescente, che parla proprio del mondo degli adolescenti, immersi in questa tecnologia, dei social e poi venitela a vedere. Il ritratto di un adolescente. Differenze tra il primo e il secondo campus? Differenze tra il primo e il secondo campus? Ho visto che il livello è aumentato, il livello di qualità dei ragazzi è aumentato. Molti ragazzi iniziano, hanno talento, non hanno magari quella preparazione giusta. Il campus serve proprio a indirizzarli, a guidarli in un percorso di formazione, di esperienza e di buona volontà. Devo fare complimenti alla VP Casting perché ha organizzato un campus veramente straordinario, ai massimi livelli ed è un orgoglio siciliano.